occhio alle truffe fatte con l'intelligenza artificiale mi sento di fare questo video perché mi sto rendendo conto che su facebook stanno aumentando esponenzialmente i casi di account truffaldini che vanno a fare delle promozioni delle inserzioni dove promettono guadagni facili co utilizzando i volti di personaggi famosi di personaggi per cui abbiamo di solito fiducia rispetto stima almeno dal punto di vista finanziario sono capitate anche a te inserzioni di pier luigi berlusconi gianluca vacchi altri attori o personaggi del mondo dello spettacolo che stanno promuovendo dei sistemi per guadagnare facilmente la cosa è questa qua ilon musk diffonde il suo modo per farti 700 euro al mese in più mille euro in più duemila euro in più il testo prima sempre quello soltanto 45 persone hanno accesso a questo video sei fortunato ascolta fino alla fine bla 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 clicca qui fai un deposito di 200 euro per cominciare a guadagnarne mille al mese tu pensi che va che bello 200 euro mille al mese non sta dicendo e piersilio berlusconi non mi dirà una cavolata non è piersilio berlusconi non è gianluca vacchi praticamente queste intelligenze artificiali e ce ne sono tantissime costano 12 euro al mese le insegno nei miei corsi ovviamente le insegno per fare le cose belle non le cose brutte ci mancherebbe con 11 euro al mese io posso prendere 30 secondi di un video di chiunque ovviamente questi personaggi hanno tanto materiale loro video in giro lo porto su queste piattaforme loro clonano voce e immagine delle persone e poi se io metto i sottotitoli di fondo posso tranquillamente andare a utilizzare quelle quelle immagini facendo dire a quella persona delle cose lui non direbbe mai ok quindi l'immagine il video sono i suoi ma quello che appunto iscrivo di sotto quello quello che lui appunto dice nasce da un testo che vado a scrivere dentro questi programmi ripeto non ci vuole una grande maestro a questo punto di vista chiunque 12 euro al mese con i gen per esempio per farvi uno dei nomi più famosi ma ce ne sono veramente ormai una miriade può ottenere quindi dei video di questo tipo ora usando a livello positivo è un modo anche per tanti creator di ottimizzare il tempo e velocizzare determinati processi purtroppo se ne è più truffatori stanno utilizzando sfruttando le immagini persone famose persone dello spettacolo persone verso i quali abbiamo magari una fiducia e per fare appunto le loro truffe occhio perché vi assicuro che mai persino berlusconi andrà a condividere o ilon musk andrà a condividere un modo per guadagnare 1500 euro in più fino a fine mese su facebook sono tutte quante le truffe ma come faccio a riconoscerle due piccoli consigli quasi sempre hanno dei movimenti molto artefatti nel senso che siccome appunto lo esaminano un lupo di circa 30 secondi un minuto vedrete che ogni 10 20 secondi quei momenti si ripetono quindi non faranno mai movimenti strani ecco io sono vero per esempio sono dei movimenti diversi ok sono sempre gli stessi movimenti stessi movimenti ripetuti e quindi ogni 20 secondi noterete questo ripete i movimenti inoltre il loro tono quasi sempre sarà monocorda cioè manterrà lo stesso ritmo per tutto il tempo non ci saranno alzi voce abbassamenti di voce ancora intelligenza artificiale non è arrivata a questo punto di precisione ma probabilmente ci sarà breve quindi questi qua sono i due parametri principali oltre che ovviamente il buon senso nel senso che ma io devo chiedermi ma gialluca vacchi o piersi o berlusconi o pinco pallino che sia a nota che sa voi condividere un modo per autondale 400 euro al mese in più promuovendo un investimento di 100 euro mi sembra molto difficile onestamente quindi sono poi dei casi particolari ma non è questa la situazione di conseguenza occhio soprattutto il mio consiglio fa girare questo video anche a per giro questo video anche a persone magari non molto digitalizzate perché purtroppo essere particolarmente a rischio sono ovviamente persone poco digitalizzate fra cui anche gli anziani che magari non sono ancora aggiornati sul potenziale intelligenza artificiale e quindi vedono per silvio berlusconi vedono gerry scotti vedono la meloni vedono mattarella che dicono ehi fai questo per ottenere quest'altro te lo dico io che sono il tuo presidente del consiglio allora si fidano e vengono truffati e poi non ci puoi fare nulla perché tu vuoi anche fare una denuncia ma la polizia ha le mani legate perché semplicemente la polizia non può accedere agli archivi di facebook la polizia per accedere agli archivi di facebook dovrebbe facebook intanto a sede legale in irlanda e in america dovrebbe andare a coinvolgere l'interpollo gli organi internazionali e comunque sia anche in quel caso facebook i suoi server sono proprio criptati quindi comunque sia i stessi operatori non possono interagire non possono comunque sia avere all'occorrenza i dati le persone fanno quelle determinate cose quindi si tratta tutto perché magari utilizzano account fasulli utilizzano email farlock nome di telefono usa e getta quindi è praticamente impossibile andare a tracciarli si io faccio la denuncia finisce in archivio se poi lo becca o la mia insieme alle altre ma veramente molto 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 difficile poi un'altra cosa che vi consiglio andate sul profilo di queste agenzie farlocche segnalatele a facebook ovviamente dico facebook ma potrebbe essere qualunque piattaforma potrebbe essere instagram potrebbe essere google potrebbe essere qualunque piattaforma segnalatele e ovviamente bloccatele ok segnalate per frode truffa o per spam o quello che volete voi in coerenza con quello che loro dicono e poi bloccatele è l'unica tutela che potete fare da questo punto di vista se il video ti è piaciuto hai trovato utile continua a seguirmi e se vuoi essere informato sull'ultima tendenza del mondo digitale e ti interessa scoprire come utilizzare questi strumenti per guadagnare ovviamente in maniera etica ti invito a seguire i miei canali e soprattutto a visitare il mio sito giovanni romano flaccomio la cosa bella la maggior quasi tutti i miei corsi per non dire quasi totalità sono gratuiti perché perché poi si possono perché per poterli appunto avere puoi affacciarti al mondo della formazione finanziata quindi tradotto gratuitamente ti iscrivi all'interno di determinate portali e poi così ricevere la tua formazione sia se tu sei una persona singola se tu sei un imprenditore un professionista e se tu sei un'azienda che magari vuoi formati o dipendenti la formazione finanziata si fa quelli che sono dei fondi statali o dei fondi di determinate realtà semi privatizzate per appunto aiutare e sostenere le persone che danno di quelle opportunità danno la possibilità di potersi aggiornare poter imparare competenze importanti per essere competitivo nel mondo del lavoro se questo argomento ti piace e vuoi approfondire visita il mio sito giovanni romolo flaccomio punto com o comunque sia mandami un messaggio insomma sai un po cosa fare e poi ci andiamo ad aggiornare ti andrò a consigliare magari l'ente di formazione più adatto in base alle tue esigenze a presto